Anche quest'anno l'Associazione Riviera al Fronte ha organizzato la staffetta per la commemorazione del 4 novembre. Il notevole numero di contributi video ricevuti sanciscono la bontà della nostra iniziativa, ormai consolidata nel tempo. Oggi vi voglio parlare di una semplice lettera trovata tra i documenti d'archivio che conservano le memorie della difesa dei monumenti di Venezia durante la Grande Guerra. Una lettera semplice, ma molto significativa. Il 24 maggio 1915 gli austro-ungari ci salutano, si fa per dire, l'ingresso dell'Italia nel grande conflitto con un coraggioso bombardamento aereo su Venezia, operato da alcuni idrovolanti con l'Aquila Imperiale. Coraggioso perché la componente aerea, almeno all'inizio della guerra, è ancora un'arma sperimentale. Solo pochi e audaci piloti potevano solcare il cielo pilotando velivoli insicuri, costruiti con legno e tela per la maggior parte. Ebbene, Venezia non era e non sarà mai per tutto l'arco del conflitto un sito strategico dal punto di vista militare, se si fa eccezione per il ruolo dell'arsenale per quanto riguarda la logistica della marina. Ma la sua distruzione avrebbe avuto un effetto dirompente dal punto di vista emotivo per le truppe italiane impegnate lungo la linea geografica dell'Isonzo, almeno fino alla sua dodicesima battaglia, quella più nota come Rotta di Caporetto. Non scordiamo la terribile responsabilità tedesca nella distruzione della splendida ed antichissima cattedrale gotica di Reims in Francia. Un obiettivo che nulla aveva di militare, ma molto dal punto di vista simbolico per il sentimento e la devuzione dei francesi. Venezia come Reims? I barbari invasori, come sono definiti spesso nei documenti di quel periodo, ci provano. L'Ispettorato dei Vigili del Fuoco di Venezia, nel resoconto finale dei danni, parla di ben dieci bombe, tra esplosive ed incendiarie, lanciate solamente il 24 maggio 1915. Alla fine del conflitto saranno molte centinaia le bombe scaricate su Venezia con l'intento di annientarla. Venezia dunque bellissima e delicata, fragile e particolarmente vulnerabile dall'alto. Chi poteva allora tentare di porre un argine alla vigliacca distruzione della regina della laguna con le opportune opere difensive e provisionali? Soprattutto una istituzione pubblica, la soprintendenza ai monumenti, e in particolar modo il suo dirigente, Massimiliano Ongaro, con i suoi fidati e fedeli dipendenti. Si tratta di un manipolo di funzionali composti da architetti, impiegati, operai, ecc. Un piccolo esercito di soldati votati alla difesa della città. In questo contesto così emotivamente violento ed incerto si innesta una vicenda umana molto toccante, naturalmente non l'unica e nemmeno la più drammatica, ma è la sola ed originale che abbiamo trovato tra i documenti d'archivio. Siamo all'inizio della primavera del 1917. Circa due mesi dopo, ai primi di maggio, inizierà la decima battaglia dell'Isonzo. Un notaio di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, scrive ad un operaio faligname della soprintendenza diretta da Ongaro. Il destinatario è Ottavio Massignan, faligname. Nella busta d'archivio abbiamo trovato un foglietto scritto a mano e di dimensioni ridotte, con bella calligrafia e pudicamente nascosto all'interno di una piccola busta bianca, come se non volesse farsi trovare dagli storici ricercatori del terzo millennio. Una busta apparentemente insignificante, ma con un contenuto davvero commovente e toccante. Carissimo Ottavio, per incarico ricevuto dalla tua moglie sono costretto a darti una gran brutta notizia riguardo a tuo fratello Gio Battista, che mentre si trovava al fronte soldato di fanteria, venne colto da una granata, lasciando così quattro bambini tenerissimi e la moglie incinta del quinto. Ti puoi immaginare la desolazione in famiglia. Presentati al tuo signor comandante e chiedigli che per carità ti conceda una licenza straordinaria onde provvedere alle urgenti necessità della famiglia. Spero che egli vorrà essere gentile nel concederti la licenza. Coraggio sempre nei dolori. Bisogna piuttosto cercare di rimediare meglio che si può. In attesa di una benevole evasione a questa mia, caramente ti saluto. Montecchio Maggiore, 5 marzo 1917. Domenico Maiolo, Regio Notaro. Tra i molti che si possono trovare ad analizzare negli archivi, anche questo piccolo documento è una tessera del più vasto mosaico umano della guerra. Parole come queste danno il segno della vita che scorre tra sofferenza e difficoltà, tra lutti e necessità di andare avanti. La mission degli archivi è proprio questa, sedimentare documenti giorno dopo giorno con l'obiettivo di conservare la storia di un popolo tramite la sua attività pubblica e le azioni collettive. Senza tuttavia scordare che tra le pieghe di questa storia comune si nasconde quella di ogni singolo individuo. La lettera appena letta lo dimostra con tutto il suo umano e drammatico contenuto. Dalla sofferenza delle trincee quindi al dolore delle famiglie. Una singola storia certamente, ma tante sono le storie come questa. Il soldato Massignano Ottavio avrà poi ottenuto la licenza come suggerito dal notaio? In realtà non lo sapremo mai. Sappiamo solamente che esiste una nota del 6 marzo 1917, a firma del soprintendente Ongaro, nella quale lo stesso soprintendente chiede al comando deposito del 71esimo fanteria di concedere la licenza per gravi motivi di famiglia. Così scrive Ongaro al comando. Soldato Massignano Ottavio, Faligname. Il fratello del soldato Massignano Ottavio, Faligname, comandato ai lavori di presidio eseguiti da questa regia soprintendenza, morì al fronte colpito da una granata. A questo ufficio nulla osta affinché al detto soldato venga concessa la licenza che codesta aspettabile autorità militare crederà di concedere. Nella nota, una mano sconosciuta forse quella di un anonimo impiegato amministrativo della soprintendenza, scrive appenna che il 13 gennaio è stato inviato, il Massignano, in licenza di giorni 7 e non ha diritto. In calce alla stessa nota, tuttavia, si evince una sorta di supplica redata a mano dal soldato Massignano per ottenere almeno 10 giorni di licenza ordinaria. Non è noto, come detto, l'esito di tale supplica al comando militare. Comunque si tratta di un tipico dramma familiare tra i moltissimi esistenti in quel periodo devastante di guerra. Noi, tuttavia, vogliamo pensare che Ongaro, da uomo caparbio e tenace quale era, abbia ottenuto per il suo povero Faligname qualche giorno di libertà per aiutare la cognata e i nipoti rimasti improvvisamente orfani di padre. Dirigenti, funzionari, impiegati ed operai della soprintendenza impegnati nel fronte importante delle salvaguardie delle opere d'arte e dei monumenti, si sono prodigati per svolgere al meglio il compito loro assegnato. Ci sono riusciti, nonostante l'accanimento del nemico con i bombardamenti aerei. Nei nostri archivi rimane documentato, per sempre, il valore di uomini armati solo di buona volontà e di grande preparazione tecnica. Venezia successivamente sarà recuperata e le sue ferite saranno risanate, grazie anche alla sofferenza e all'impegno intenso di questi soldati senza divisa. Questa piccola ricerca finisce qui. In qualità di vicepresidente di Riviera al fronte, vi invito a proseguire l'ascolto degli altri contributi sicuramente molto interessanti. Grazie.